buongiorno buongiorno san sepolcro casa natale di piero della francesca e museo di piero della francesca troviamo aperto se lo troviamo chiesa di san francesco xiii secolo san francesco san francesco san francesco san francesco san francesco caric san francesco 24 E' un museo, non è l'externa. al mercatino piazza torre di berta chiesetta del buon gesù intitolata san jacopo tutto torna sempre grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Palazzo Comunale, intervallo, cerchiamo cibo. Ci è piaciuta un sacco la casa Natale, un po' meno il museo civico, però probabilmente perché era molto affollato e non si riusciva a studiare bene. Abbiamo visto anche una mostra su Frida Kahlo, che è sansepolcro merita, è adattissima a una gita fuori porta di un giorno con la famiglia, molto comoda, facile, parcheggio gratuito, centro storico, che dire? Appostata. Tutto bene.